Senza Gesù non c'è Chiesa, Lui è il fondamento. È in questo passaggio il cuore dell'Omelia di Papa Francesco nella Messa del Mattino a Casa Santa Marta, nella quale ha ricordato che le due letture della liturgia odierna sono una catechesi sulla Chiesa. Il Pontefice ha sottolineato che siamo una costruzione per essere Tempio Santo del Signore e che la pietra d'angolo è Gesù che prega. Il Vangelo è tutto in tessuto della preghiera di Gesù sul Monte degli Olivi, sulla croce. È Lui, ha affermato il Papa, che intercede per noi davanti al Padre. È questa la nostra sicurezza, il nostro fondamento, la nostra pietra d'angolo. È Gesù che si fa carico delle nostre preghiere, pregando a sua volta, come fece per Pietro, perché la sua fede non venisse meno. È quello che dice a Pietro, dice a te, a te, a te, a me, a tutti. Io ho pregato per te, io prego per te. Io adesso sto pregando per te. E quando venga sull'altare, Lui viene a intercedere, a pregare per noi, come nella croce. E questo ci dà una sicurezza grande. Io appartengo a questa comunità salda, perché ha come pietra d'angolo Gesù. Ma Gesù, chi prega per me, chi prega per noi. Oggi ci farà bene pensare sulla Chiesa. Riflettere su questo mistero della Chiesa. Siamo tutti come una costruzione, ma il fondamento è Gesù. È Gesù chi prega per noi. È Gesù chi prega per me. È Gesù chi prega per me.